Allora, l'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme come è possibile andare oltre la definizione di classi che possano utilizzare tanti tipi diversi di elementi, ad esempio la classe lista che vediamo qui, garantendo però un controllo del compilatore aggiuntivo. In particolare parleremo di quelli che sono i tipi generici. A differenza delle lezioni precedenti vi introduco oggi il concetto di tipi generici e poi vi pubblico successivamente la lezione teorica più dettagliata con tutti i vari aspetti. Se prendiamo la classe lista oggetti che vedete qua, come la posso utilizzare? L'abbiamo già visto, ma vi creo un nuovo package in cui metto un po' di esempi. Quindi abbiamo detto it politopio2021.generics e dentro questo package vado a mettere una nuova classe di esempio di uso di questa lista di oggetti. Quindi esempio oggetti. Allora abbiamo detto che io posso andare a creare una lista oggetti. L uguale a new lista oggetti. Ovviamente devo importare la classe che si trovi in un altro package. e dentro la mia lista oggetti posso fare l.aggiungi. Ad esempio posso aggiungere un po' di valori numerici. Ad esempio 1, 1, 2, 3, 5, 8. Numeri della serie di Fibonacci. Immaginiamo di voler andare a sommare questi numeri. Quindi while l.contra è maggiore di 0, quindi mentre ci sono gli elementi all'interno della lista, cioè almeno un elemento, ho un object o uguale l.estrai testa, quindi vado a prendere l'elemento che sta in testa. Ho dimenticato di definire qui un int somma inizializzato a 0. Dopodiché ovviamente devo andare a fare somma più uguale a cast a integer di o in modo da poter sommare il tutto. Ok? E poi alla fine system out println vado a stampare la mia somma. Qui c'è una chiusa graffa che avevo dimenticato. A questo punto se io eseguo il mio codice ottengo 20, che è la somma dei primi sei numeri della serie di Fibonacci. A questo punto quali sono i limiti di questa soluzione? Ok? limite numero uno devo sempre andare a fare un cast esplicito. Ok? Perché estrai testa mi restituisce un object io in realtà dentro una classe ho messo dei valori di tipo integer e quindi devo per forza mettere un cast e se trattandosi di un downcast deve essere esplicito. Ok? Ma questo se volete è un limite in termini di leggibilità o di compattezza del codice. Un altro limite è dovuto al fatto che non ho nessun controllo. ovvero se qui invece di mettere integer mettessi double il codice scritto così viene considerato corretto dal compilatore perché l'abbiamo detto un sacco di volte il compilatore quando noi facciamo un downcast semplicemente verifica che la classe a cui faccio il cast sia compatibile con la classe di partenza. ok? Double deriva da number che a sua volta deriva da object e quindi il downcast da object a double funziona benissimo. Ok? Tenete presente che mentre il compilatore solitamente fa un controllo di diciamo coerenza quando io faccio un cast a una classe tendenzialmente mi accetta sempre e comunque un cast a un'interfaccia. Ok? Quindi il cast a un'interfaccia è sempre accettato. Il cast a una classe è soggetto a un minimo di controllo per verificare che effettivamente la classe di partenza e la classe di arrivo siano legate da un'ereditalità. Per cui se qui mettessi comparetor ovviamente non posso assegnarlo non posso fare la somma però il cast a comparetor è un qualcosa che funziona. Ve lo metto qua intanto per comparetor c uguale cast a comparetor di object o dove comparetor può essere importato cast a interfaccia sempre corretto il computatore lo considera sempre corretto ovviamente sia questo cast a comparetor sia questo cast a double ci daranno dei problemi in fase di esecuzione infatti se io vado ad eseguire il mio codice quello che ottengo è un class cast exception ok integer java lang integer cannot be cast to java lang double ok ce l'aspettavamo ok quindi quindi l'altro limite importante è che se noi andiamo utilizzare object oltre a dover mettere il cast esplicito questo cast non può essere controllato dal compilatore e mentre di solito se abbiamo non so un array di interi e ovviamente cerco di assegnare un intero a una stringa non funziona perché il controllo viene fatto quando una lista di oggetti fatta così non riesco a farlo terzo problema se io anche essi il cast corretto se faccio l punto aggiungi 3.141 questo mi mette dentro un double ok ricordatevi che quella riga lì come quelle precedenti sostanzialmente fanno un auto boxing che mi produce un integer ok quindi di fatto il compilatore mi fa un l punto aggiungi e qui mette un integer punto value of di 1 ok questo è quello che è tradotto dal compilatore noi lo scriviamo in maniera più compatta comodo per noi che scriviamo meno codici meno caratteri ma di fatto di nascosto il compilatore fa quest'operazione e ovviamente qui essendoci un valore double mi fa l'autoboxing in un double risultato sebbene questo cast qui sia corretto in base a il tipo che io volevo andare a mettere immagino ci sia dentro la mia lista qui mi ritrovo un errore e quindi rimuovo un class cast exception in questo caso double che non mi converte a un integer ok ho dentro un double cerco di convertirlo a un integer e questo non funziona attenzione ricordatevi che io qui vado a convertire non l'oggetto in sé ma bensì vado a convertire il riferimento ok quindi l'oggetto è quello non viene toccato se io volessi far funzionare questo con valori che possono essere integer long double float dovrei qui andare a mettere un if o instance of per verificare che il tutto funzioni quindi se volessi essere sicuro di non fare degli errori potrei dire se if o instance of integer allora sommo ok questo controllo qui è dato dal fatto che ovviamente l'autoboxing da double a object è automatico e avendo messo dentro la lista di oggetti per l'appunto dei riferimenti a oggetti posso mettere qualunque cosa quindi mi posso ritrovare dei valori eterogenei ok riferimenti di tipo eterogeneo a oggetti di tipo eterogeneo come posso risolvere questo problema ok questo problema potrei risolverlo se avessi un modo di dire che la lista degli oggetti qui deve avere soltanto degli integer e quindi se io qui andassi a prendere integer ok vado a dire va bene qui dentro puoi mettere soltanto integer e quindi qui questo problema è risolto il metodo estrai testa però continuare a scrivermi un object devo comunque fare un cast e quindi potrei sbagliare quest'altro quindi con quello che conosciamo ora di java riusciamo a risolvere forse uno dei problemi cioè il fatto di poter inserire elementi di tipo diverso ma non gli altri ovvero il fatto che io devo esplicitamente fare un cast un downcast e quel downcast non è controllato per questo motivo in java diciamo nella versione 1.5 quindi già un qualche anno fa sono stati introdotti quelli che si chiamano i tipi generici allora io vado a prendere la mia lista oggetti ok faccio ctrl c ctrl v e la chiamo vado a chiamarla lista generica la lista generica è identica alla lista oggetti ok abbiamo cambiato soltanto il nome della classe ok ma andiamo a mettere alcuni dettagli per cui lista generica la vogliamo poter fare parametrica ma parametrica rispetto a che cosa non rispetto a un numero un valore ma rispetto a un tipo quindi vogliamo andare a creare una lista di interi di stringhe di persone questo lo possiamo fare con questa notazione quindi subito dopo il nome della classe noi possiamo andare a mettere un minore tipo elemento ok ve lo scrivo tutto maiuscolo così è ben evidente ok lì metto un tipo il tipo degli elementi della nostra classe a questo punto nella mia lista generica andrò a utilizzare questo tipo elemento dove avevo prima utilizzato object quindi object diventa tipo elemento questo non può più essere static ma deve essere normale questo diventa tipo elemento testa mi restituisce non più un object ma un tipo elemento estrai testa mi restituisce un tipo elemento e conta vabbè è uguale a prima ok quindi cosa ho fatto ho aggiunto questo parametro di tipo ok quindi questo questo qui si chiama type parameter ok le due parentesi angolari sono lo strumento che mi permette di andare a definire i parametri e all'interno vado a mettere il parametro di tipo qui ho messo uno ma in generale potrei anche metterne più di uno ok vediamo che vedremo che nella maggioranza dei casi buona parte delle classi generiche hanno un unico parametro di tipo ma ci sono alcuni casi in cui esiste più di un parametro tipo quindi rispetto alla scrittura precedente che cosa ho fatto invece di mettere object vado a mettere tipo elemento a cui volendo posso andare a sostituire l'object domanda come mai la classe nodo non poteva essere static perché sostanzialmente il tipo è specifico di ogni oggetto ok io posso avere tante liste una di stringhe una di interi eccetera a quel punto il tipo il parametro tipo varierà non in base alla classe ma bensì in base all'oggetto e quindi se la classe nodo fosse stata statica non sapeva a quale oggetto fare riferimento allora l'errore cannot make a static reference del non static type tipo avviene se io qui metto cioè mantengo come era prima static class static ok ho quell'errore bisogna togliere questo static ok quindi togliendo questo tutto funziona il motivo è quello che stavo spiegando un attimo fa a Davide perché ovviamente il tipo elemento non è specifico della classe ma è può cambiare per ogni oggetto quindi ogni volta che vado a creare una lista generica andrò a dire in questa lista generica voglio mettere degli interi delle stringhe delle persone ok vediamo che poi c'è anche un altro modo di farlo potrei fare nodo la classe nodo è se stessa una classe generica finiamo finiamo il discorso su questo e torniamo al nostro esempio qua a questo punto invece di avere una lista di oggetti vi copio tutto tale e quale e vado a mettervi una nuova classe esempio lista generica e qui dentro metto esattamente lo stesso codice di prima dove vado a sostituire alla classe lista oggetti la classe lista generica ok che deve essere ovviamente importata ok a questo punto new lista generica e qui vado a specificare il tipo di oggetti che voglio andare a mettere dentro la mia lista quindi abbiamo detto che vogliamo mettere degli interi per suonarli e qui vado a mettere integer e stessa cosa vado a mettere qui nella dichiarazione quindi questa è una lista è un riferimento una lista generica di interi e qui vado a creare una lista generica di integer a questo punto vedete che gli aggiungi funzionano tutti tranne questo qua in cui mi dice il metodo aggiungi integer perché nel momento in cui ho detto che lista generica è parametrizzata dal tipo integer automaticamente il metodo aggiungi avrà come parametro integer che abbiamo messo tipo elemento per cui sostituiamo a tipo elemento integer e abbiamo la nostra classe a questo punto il metodo aggiungi richiede un parametro di tipo integer qui stiamo passando un double e quindi non funziona quindi l'ultimo dei problemi che abbiamo evidenziato automaticamente viene risolto in questo modo andando a dichiarare la classe lista generica e quando la istanzio andando a dire che lì dentro voglio metterci degli oggetti di tipo integer ok secondo aspetto estrai testa vedete mettendomi sopra mi restituisce non più un object ma mi restituisce un integer quindi quello che posso fare qua è andare semplicemente a dire somma più uguale a l punto estrai testa e a questo punto non ho bisogno di nessun cast perché questo è un integer qui sto sommando un int c'ho un auto unboxing e quindi il risultato è corretto quindi se eseguo ottengo 20 esattamente come prima non devo mettere i cast e ovviamente quei cast sono verificati correttamente per cui se io vado a mettere qui compareto cast a compareto di l estrai testa mi dice chiaramente guarda che cannot cast from integer to compareto perché la classe integer non implementa l'interfaccia compareto e quindi i controlli sono fatti senza problemi quindi i tre problemi principali che abbiamo visto prima il fatto che devo fare i downcast il fatto che i downcast non sono controllati dal compilatore che sono controllati poi i runtime e il fatto che posso aggiungere elementi diversi da quelli attesi sono sostanzialmente risolti tramite l'uso di classi generiche domanda di Lorenzo ma tipo elemento cioè il parametro di questa lista generica deve per forza essere integer o potrebbe essere anche un int deve per forza essere una classe e quindi qui non posso mettere lista generica di int devo per forza utilizzare una classe e quindi di conseguenza se la tentazione è quella di mettere degli int devo ricordarmi di mettere la classe wrapper i tipi in questo caso non possono essere tipi primitivi ma devono essere per forza delle classi o delle interfacce ok però l'idea è non posso utilizzare dei tipi primitivi domanda il tipo di elemento supportato dalla lista va aggiunto anche nella dichiarazione del tipo L il riferimento ovviamente è a questa linea qui di dichiarazione allora io sì devo mettere l'uperforza qua nella dichiarazione volendo lo posso mettere qua se io tolgo il tipo e lascio semplicemente il minore maggiore il risultato è che il compilatore cosa fa va a inferire il tipo corretto qua ok però qui è necessario ometterlo altrimenti il risultato è che non ho il controllo allora necessario posso ometterlo ma adesso ci arriviamo tra un attimo ok potremmo avere l'upcast di una lista generica di integer a un riferimento di tipo lista generica no perché quello che abbiamo visto che è essere la type covariance che c'è con gli array non c'è con i tipi generici ma ci arriviamo tra un attimo e lo commentiamo perché sono uguale dice l'operator is undefined allora attenzione torno un attimo alla lista generica perché l'ho modificata molto velocemente scusate qui allora abbiamo detto che abbiamo messo qua il tipo elemento che è il parametro dopodiché abbiamo sostituito ovunque c'era object tipo elemento quindi qua nel valore del nodo qui nel parametro del costruttore di nodo qui nel parametro di aggiung soprattutto qui nel valore restituito da testa e nel valore restituito da estri testa conta invece non utilizza object e quindi non cambia nulla cosa succede? praticamente viene presa questa classe ogni volta che c'è tipo elemento viene sostituito integer ok? quindi molto più compatto e il risultato è decisamente più corretto perché? perché il compilatore riesce a farci un sacco di controlli in più che prima non riusciva a fare ok? quindi vi faccio vedere la differenza tra questa linea qui che io posso scrivere utilizzando la lista generica rispetto a quello che avevo scritto prima per essere sicuro che tutto funzionasse e di non avere dei problemi a runtime ok? 1 a 4 linee di codice con in più la garanzia che il controllo viene fatto dal compilatore non devo farlo io e con in più il vantaggio che questo codice qua viene beccato subito come un errore dal compilatore ok? quindi in generale tutte le volte che ho dei contenitori o delle classi che possono essere generiche l'idea è non si utilizza object ma bensì si utilizzano i tipi generici perché? perché sostanzialmente abbiamo un sacco di semplificazioni di scrittura del codice e soprattutto abbiamo dei controlli che vengono fatti automaticamente dal compilatore qualche piccolo dettaglio sulla sintassi abbiamo visto che nella dichiarazione io devo andare a mettere il parametro di tipo in teoria il parametro di tipo lo posso anche dimenticare nel senso che io potrei andare a definire lista generica ll e non mettere questo parametro di tipo il risultato come vedete non è un errore è un warning questa scrittura sostanzialmente equivale a dire lista generica object e io ok questo equivale a quindi qui viene segnalato un warning perché io non ho messo esplicitamente il tipo object e quindi mi dice attenzione stai utilizzando quello che si chiama il row type ovvero il tipo base però non lo stai usando esplicitamente mentre invece qui stai utilizzando il tipo con object ovviamente come suggerisce Federico se io utilizzo invece di lista di integer lista di object mi ritrovo con tutti i problemi di prima ok ho esattamente che questa cosa qui identica in termini di codice a lista oggetti quindi usando i tipi generici ho molta più flessibilità posso anche volendo di solito non lo si fa perché comunque vuol dire eliminare dei controlli fare una lista di oggetti e tornare al caso di partenza ok ora noi abbiamo scritta esplicitamente la nostra lista generica qui con pochi metodi eccetera esistono tutta una serie di classi all'interno di un package che si chiama java.utils che implementano le liste e le implementano come classi generiche ok quindi la nostra lista generica non dobbiamo andarcela a creare noi ma possiamo utilizzare quella già definita all'interno del package java.utils ci arriveremo un po' più avanti ok a vedere tutte le classi che sono in quel package per il momento soffermiamoci un attimo con più attenzione su i tipi generici come funzionano i tipi generici allora torniamo qui ai nostri esempi se io vado a definire una lista generica di string ls uguale new lista generica come fa il compilatore a creare l'oggetto puntato da ls crea una nuova classe se immaginate di mettervi nei panni di chi ha generato il linguaggio sostanzialmente ci sono due alternative o ogni volta che io ho una dichiarazione di questo tipo vado a creare una nuova classe in cui sostituisco a tipo elemento string object integer eccetera oppure uso un'unica classe reale e poi la nascondo dietro il riferimento con un tipo java usa questo secondo approccio quindi in realtà la classe di ls e la classe di l sono esattamente la stessa come viene fatto questo sostanzialmente nella nostra lista generica il compilatore fa quella che si chiama un'operazione di type erasure ovvero di cancellazione dei tipi ok in realtà di type parameter erasure ok cancella i tipi i parametri tipo sostanzialmente va a vedere qual è la classe che io posso sostituire a tipo elemento per fare funzionare tutto sostanzialmente se io qui invece di tipo elemento metto object il tutto mi funziona correttamente quindi java che cosa fa va a creare una classe che invece di tipo elemento ha sostanzialmente object cioè la nostra classe lista oggetti di prima esattamente identica qual è la differenza che mentre dall'interno della nostra classe lista generica io non so che tipo sto trattando dall'esterno ovvero qui avendo dichiarato l come la specializzazione lista generica con il parametro integer qui posso fare tutti i controlli ma in realtà dentro la classe lista generica vengono trattati tutti come fossero degli object ok questo ha qualche piccola conseguenza ad esempio il fatto che qui nella mia lista generica volendo creare un nuovo elemento valore non posso fare tipo elemento x questo lo posso fare ovviamente qui viene sostituito automaticamente object quello che non posso fare è dire x uguale new tipo elemento non lo posso fare semplicemente perché abbiamo detto la lista generica è compattata in un'unica classe e dentro all'interno di questa classe ovviamente non c'è l'informazione su qual è il tipo e quindi quel new non ha le informazioni sufficienti per creare un oggetto del tipo corretto quindi questo non è fattibile domande quindi nelle classi generiche non posso avere ad esempio array di tipo elemento allora posso avere gli array di tipo elemento ma non li posso istanziare io posso avere qui il mio private tipo elemento quadre array però però non posso fare new tipo elemento di 10 20 eccetera quindi questo è se volete la limitazione dei tipi generici però il grosso vantaggio l'abbiamo visto è che ci semplifica la vita nello scrivere il codice e soprattutto ci consente di andare a permettere al computatore di fare una serie di controlli che altrimenti non potrebbe fare ovviamente io posso avere tipi generici che utilizzano altri tipi generici se ricordate prima abbiamo dovuto mettere non statica questa classe nodo perché altrimenti tipo elemento non era collegabile quello che posso fare è mettere un private static class nodo e qui vado a mettere un e e invece di mettere tipo elemento qui vado a mettere e e e nodo a questo punto è un nodo di tipo elemento ok passo il parametro di tipo della mia classe al parametro di tipo del nodo nodo di e ovviamente devono essere dello stesso tipo in modo che si possano puntare e qui new nodo non di tipo elemento ma di sì sì scusatemi new nodo aperta chiusa ok il compilatore qua capisce che deve essere di tipo tipo elemento nodo anche qui tipo elemento e sostanzialmente è tutto corretto a questo punto ovviamente può essere di nuovo una classe estetica bene domanda cosa potrebbe servirmi tipo elemento array se non ho inizializzato quello che avevo messo come esempio ah quello l'ho cancellato allora lo potrei utilizzare se mi fosse passato dall'esterno cioè lo inizializzo con un parametro del costruttore e l'unico possibile utilizzo è quello che mi passano un array e lo salvo domanda di fianco all'attributo valore non dobbiamo scrivere e no attenzione questo allora e vale soltanto qua dentro dentro la classe nodo quindi finita la classe nodo e non è più nulla mentre invece qui valore è di tipo elemento perché qui ci troviamo dentro la classe lista generica che ha come parametro tipo elemento e l'abbiamo scritto qua correttamente perché è il parametro del tipo e a parte questi dettagli di type erasure che poi vedremo possono essere complicati ulteriormente l'idea è vado a mettere un parametro di tipo e poi lo utilizzo dappertutto e questo mi consente dall'esterno di fare tutti i controlli domanda scusate torno un attimo qua lista generica in questo caso e tipo elemento coincidono sì perché io quando vado a creare vado a dichiarare testa come un nodo tipo elemento quindi dentro nodo andrò a sostituire a al parametro e tipo elemento e ancora più all'esterno quando andrò a creare lista generica andrò a sostituire a tipo elemento integer ad esempio ok a questo punto se vi ricordate quando abbiamo parlato di ordinamento mi pare qui vediamo se ve l'ho scritto da qualche parte non mi ricordo se avevo scritto la classe ah eccola qua vi ho fatto vedere come era fatta la classe comparable scusate la classe l'interfaccia comparable adesso scusate vi creo un'altra classe ordinamento generico vi ripeto qua l'interfaccia comparable che è definita in java.util allora quando vi ho detto che l'interfaccia comparable definita in java.util è dichiarata così vi ho detto una bugia ok a fin di bene perché era troppo complicato in realtà l'interfaccia comparable definita all'interno del package java.util è dichiarata come sto ancora semplificando ma t e t ok per cui a questo punto capite perché quando io vado a prendere la classe persona e a implementare l'interfaccia comparable mi dà un errore quindi se torniamo qui e vado a prendere riprendo la classe persona e ve la copio di là lo dice l'abbiamo tutto in unica classe se ricordate qualcuno forse mi aveva fatto una domanda perché c'è questo warning qua se vado a vedere questo warning vedete che ordinamento genico comparable is a row type e questo qua devo commentarlo perché altrimenti mi prende questo e non quello originale comparable is a row type e se ricordate row type ce l'ho quando vado a dichiarare una classe in questo caso un'interfaccia generica senza specificare il parametro di tipo cosa succede qui equivale a dire comparable di object ok non mettere il parametro di tipo equivale a dire object in realtà elimino questo import qua che non ci serve in realtà a me farebbe molto più comodo fare un comparable non di object ma bensì di persona perché se faccio così vuol dire che io posso andare a confrontare persona con un qualun altro tipo di oggetto mi interessa relativamente poco io voglio confrontare le persone con se stesse ok se voglio fare un ordinamento che è il motivo per cui implemento l'interfaccia comparable voglio fare un ordinamento tra persone non tra persone string per cui qui invece di mettere object esplicitamente come ho fatto io adesso o implicitamente o mettendo completamente la parte di parametro potrei andare a dire persona comparo comparo di persona cosa vuol dire comparo di persona che io devo andare a implementare una un metodo che non è compare to object ma bensì è compare to di parametro t che in questo caso è persona e quindi qui diventa persona che posso chiamare altra anzi fatemi commentare tutto questo così ci resta lì come promemoria di cos'era prima faccio un override di public int compare to persona altra a questo punto mi prendo tranquillamente il codice che c'era prima e non ho più bisogno di fare alcun cast perché il parametro è già altra e quindi il cast che io dovevo fare qui dentro compare to non è più necessario ok mi sono semplificato la vita un solo se io vado a prendere il mio array che abbiamo usato la volta scorsa e ve lo riporto qua sotto a questo punto posso tranquillamente ammettere che non vi ho detto una bugia ma ve ne ho dette due anche l'interfaccia compare to è dichiarata come un'interfaccia generica e in particolare l'interfaccia compare to è dichiarata in questo modo compare to anche questo di t int compare t a t b di conseguenza quando devo andare a fare i confronti li posso fare tranquillamente senza necessità di dover fare il cast se ricordate qui avevamo un eccolo qua il comparatore che avevamo scritto la volta scorsa metto questo questo scusate mi c'è un errore da qualche parte ecco perché qua abbiamo messo un comparatore di che cosa di persone quindi io posso fare comparator di persona e faccio un override e ovviamente qui non ho un compare a di object ma ho un persona a e persona b ok ok il compilatore mi dava dei problemi che non riusciva a riconoscere persona ok è un problema di del compilatore di eclipse quindi vado a definire il mio comparatore di persona mettendo come parametri non più degli object ma persona quindi mi evito i cast ok a questo punto come avevamo fatto la volta scorsa possiamo anche semplificarci e andare a dire che il comparatore è uguale a persona a persona b freccia questo codice ripete che tutta la parte da qui fino a qui quindi il new override public int eccetera io ho messi allora domanda devo mettere un tipo generico oppure specifico allora l'idea è tutte le volte che ho una classe un'interfaccia generica uso il parametro di tipo omettere il parametro di tipo vuol dire che devo aggiungere dei cast e il compilatore non è in grado di fare dei controlli quindi il comparatore come avevamo scritto la volta scorsa è da evitare e quindi utilizzerò sempre comparatori o altre classi o interfacce con il parametro di tipo in modo che sia corretto in modo che il compilatore possa farmi dei controlli e in modo che il cast che devo rimettere qua dentro da oggetto a persona me lo posso risparmiare quindi ho il doppio vantaggio di codice più compatto perché mi evito dei cast e controlli fatti dal compilatore domanda come mai non metto comparatore a persona prima di comparatore a perché è la stessa variabile di prima se preferite se vogliamo fare un'altra variabile posso mettere il comparatore b ok in questo caso è esattamente analogo a quello di prima domanda quindi nella notazione lambda senza appoggiarci a nessuna variabile può automaticamente vedere il tipo sulla base dei parametri che usiamo sì in realtà usando una lambda i parametri li conosce sulla base della variabile e di quello che vado a mettere qua non solo quando ho una lambda il compilatore è in grado di fare un'inferenza dei tipi che va ancora oltre io posso togliere persona qui e persona qui e automaticamente il compilatore fa quella che si chiama la type inference quindi capisce che a e b sono di tipo persona perché il risultato deve essere un comparatore di persona che ha un unico metodo che si chiama compare e i parametri di quel metodo compare sono uguali al parametro persona lo stesso tipo di inferenza viene fatta se io vado a fare un arrays punto sort persone virgola e poi metto l'inferenza di tipo con la lambda a questo punto come fa il compilatore a sapere che questa cosa qua in realtà è un'istanza di compare o di persona lo sa perché il metodo sort è dichiarato in questo modo ok adesso ve lo riscrivo un attimo qua allora static sort ho un array di t virgola comparator di t static comparatore di t cmp ancora c maiuscola il metodo sort dentro arrays ok è dichiarato in questo modo non esattamente così c'è un super ma adesso vediamo di capire come è fatto quindi il compilatore vede che persone è un array di t e quindi capisce che questa chiamata ha come parametro t uguale a persona e quindi si comporta di conseguenza è un po' come se noi mettessimo qua un sort persona ecco prima si mette scusatemi è come se io avessi messo questo questo parametro di tipo per il metodo viene inferito automaticamente dal compilatore perché il parametro il primo parametro è un array di persona e quindi t uguale a persona di conseguenza sort viene parametrizzato con persona una volta che ha capito che t in base al primo parametro è uguale a persona capisce che il secondo parametro è un comparatore di persona e quindi il metodo da implementare con questa lambda sarà il metodo compare e i due parametri di compare sono entrambi persona e quindi va a inferiore tutti i tipi domanda quindi passare un comparatore che si basa ad esempio su un integer sarebbe un errore certamente se io allora tolgo questo parametro qui che praticamente non si mette mai perché il compilatore tendenzialmente fa l'inferenza dei tipi se io avessi un comparatore di integer che ad esempio fa a e b usate non qui a b e mi dice restituisce b meno a e fa l'ordinamento inverso se io faccio arrays.sort persone virgola comparatore di interi persone mi viene segnalato un errore dicendo che il metodo sort non è applicabile a due argomenti che sono array di persona e compare editor di integer ok quindi i due parametri hanno due tipi incompatibili perché uno è un array di persona e quindi in quel caso t è persona l'altro è un comparatore di integer e quindi in quel caso t è un integer e quindi il valore di t che può essere dedotto da questi due parametri è errato ovviamente se io vado esplicitamente a dire che questo è un sort fatto su una persona quindi vado a dire esplicitamente il parametro del 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 sort ecco che mi dice che il comparatore non è applicabile ok quindi cambia leggermente il messaggio d'errore ma sostanzialmente questo siamo ai tipi in i bili ok quindi non posso fare l'ordinamento di persone con comparatore di interi tenete conto che attenzione se io invece di mettere questo comparatore avessi messo un comparatore senza specifico ulteriore scusate ovviamente questi sono due obietti a e b quindi integer i uguale cast e integer di a faccio la stessa cosa ma con un comparatore questo fa diventa un comparatore di object in questo caso il compilatore non mi dà un errore perché questo qua è un row type e quindi lui non sa se quel comparatore sia applicabile o meno quindi cioè sa che quel comparatore è generico e quindi può essere applicato a qualunque cosa che sia un object e quindi lo accetta ovviamente nel momento in cui io vado a fare questo ordinamento qui ho un errore in fase di di esecuzione la grossa differenza tra usare e non usare i tipi generici è che se utilizzo il tipo generico come in questo caso correttamente il compilatore mi dice guarda che quel comparatore lì non funziona se utilizzo i row type e quindi non vado a parametrizzare il tipo generico il compilatore non mi può fare nessun controllo e quindi mi dice va bene risultato a run time mi ottengo un class cast exception e quindi se vado a commentare questo il resto credo che sia tutto corretto e quindi se faccio questo allora scusate ho un errore di compilazione qualche parte qua su ecco continuo ad aggiungermi l'import ho un errore qua giù in fondo vedete che è un class cast exception dove qui dentro questo comparatore ok quindi il grosso vantaggio di avere i tipi generici è che il compilatore mi identifica possibili problemi in anticipo se non uso i tipi generici il problema comunque c'è solo che me ne accorgo eventualmente durante l'esecuzione ok questo è il motivo per cui la raccomandazione è utilizzate sempre i tipi generici e parametrizzateli correttamente in modo che il compilatore sia in grado di identificare gli errori ben prima del momento in cui eseguite il vostro programma quando noi andiamo a fare il compilatore invece di questo non rispondo alla domanda come fa il compilatore a identificare il tipo corretto se utilizziamo il comparing allora posso fare race punto sort persone virgola compare punto comparing e qui vado a mettere persone due punti due punti get cognome allora con il get cognome non sono sicuro di averlo messo ecco manca il get cognome qua ovviamente string get cognome e a questo punto di nuovo inferenza di tipi questo è un array di t visto che nella signatura del metodo è un array di t visto che qui è un array di persona deduco che t è uguale a persona a questo punto quello che ho qui deve essere un comparatore di persona il metodo compare sharing in questo caso avendo dedotto che è una persona so che deve essere un oggetto che una funzione che prende una persona e restituisce che cosa il parametro il valore restituito da get cognome che è string e quindi capisce che quello in realtà è una funzione l'interfaccia function è definita come un'interfaccia che ha un unico metodo con un parametro in questo caso persona e valore di ritorno string quindi il compilatore in base ai tipi che utilizzate è in grado di fare un'inferenza di tipi e capire esattamente qual è la variante giusta delle interfacce generiche da istanziale attenzione che non sempre il compilatore è in grado di fare questa inferenza ok quindi in alcuni casi vedremo qualche esempio mi pare ieri o l'altro ieri stavamo parlando su su Slack con uno di voi sul fatto che se la classe persona non è dichiarata dentro questa come classe annidata qui dentro ma come classe esterna non sempre funziona ok l'inferenza si basa su quando io ho una chiamata a un metodo vado a vedere se il primo parametro mi permette di identificare il tipo e da quello vado a dedurre il tipo anche dell'altro e via di questo modo in cascata se ho una chiamata successiva quindi qui dentro ci sono tutta una sequenza di inferenze di tipo tutt'altro che banali che vengono fatte dal compilatore ovviamente l'alternativa qui è andare a utilizzare un comparatore di base e quindi la quantità di codice che devo iscrivere è decisamente superiore soprattutto in un comparatore non generico non ho un controllo dei tipi che invece viene fatto in questo caso ok ok allora nella dichiarazione non vi consente di mettere ma credo che sia un baco del compilatore di Eclipse perché tendenzialmente dovrebbe funzionare ok non vi permette di mettere semplicemente l'operatore Diamond perché probabilmente non riesce a fare le inferenze di tipo di nuovo credo che sia un baco del compilatore Eclipse perché ovviamente qui l'inferenza di tipo è ovvio in ogni caso quando il compilatore non riesce a fare l'inferenza di tipo siamo noi che possiamo andare tranquillamente a dire qual è il tipo che vogliamo andare a specificare quindi invece di lasciare quello che si chiama l'operatore diamante il Diamond operator cioè minore maggiore posso andare direttamente a scrivere persona a questo punto l'inferenza di tipo viene fatta correttamente anche perché non c'è nessuna inferenza di tipo sono io che sto dicendo qual è il tipo ok a questo punto prima di entrare in dettagli e vedere alcuni aspetti un po' più particolari dei tipi generici anche dei metodi generici che abbiamo accennato velocemente direi che possiamo fare una pausa diciamo 15 minuti io faccio le 10.10 riprendiamo alle 10.25 ok con un approfondimento di alcuni aspetti aggiuntivi allora torniamo un attimo alla nostra esempio di lista generica ok e cerchiamo di capire come funzionano liste generiche allora se ricordate per quanto riguarda gli array abbiamo una proprietà che si chiama covarianza per cui se ho un integer array array int quali new integer 3 scusate di 3 posso tranquillamente andare a fare un object array array object uguale array int ovviamente questo abbiamo visto che può causare dei problemi perché teoricamente potrei andare a fare array object di 0 uguale una stringa ok quindi questo viene consentito da compilatore in fase di esecuzione o un errore come avviene il legame tra l'ereditarietà del tipo di base e l'ereditarietà della classe quando invece di array parliamo di tipi generici quindi se abbiamo la nostra lista generica l che è una lista di integer se io definisco una lista generica di oggetti che è lo posso scrivere lo uguale a l la risposta ce l'abbiamo immediatamente nel compilatore ed è no type mismatch cannot convert from lista generica di integer to lista generica di object qui quando invece ho non gli array ma i tipi generici o quella che si chiama invarianza ok il fatto che gli elementi delle liste siano legati da ereditarietà quindi object e la classe di base di integer non implica che anche le corrispondenti classi che utilizzano quei tipi siano legate da ereditarietà ok quindi questo no qual è la motivazione? la motivazione è dovuta al fatto che per l'appunto la covarianza degli array può portare a problemi in fase di esecuzione che non sono identificabili durante la compilazione è molto comodo però mi dà dei grossi problemi immaginate di dover andare a scrivere una funzione che prenda tutti gli elementi e li stampi da una lista ok static void stamp tutti lista generica e qui cosa metto? object l e qui for object o in scusate while l punto conta è maggiore di zero object o uguale l punto e sta richiesta e poi system out ln di o il problema è che a questo punto se io volessi stampare la mia lista generica l quindi se volessi fare stampa tutti tl proprio perché i tipi generici sono invarianti qui mi dice attenzione il metodo stampa tutti che ha come parametro lista generica di object non è applicabile per l'argomento lista generica integer proprio perché essendoci in varianza quelle due per regolette quei due tipi non sono legati dell'editarietà e quindi non posso fare un upcast come invece mi aspetterei e come invece avviene tra gli array domanda anzi osservazione in chat non potrei mettere un parametro di tipo anche stampa tutti certo quello che posso fare è andare a mettere qui il tipo t e qui andare a mettere t a questo punto questo è non più un metodo che ha bisogno di un specifico tipo di parametro ma bensì ho un metodo generico ovviamente qui abbiamo il meccanismo di type rager 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 e quindi sostanzialmente dentro il metodo t viene sostituito da object quindi l'unica cosa che posso fare è per l'appunto utilizzare object in realtà potrei anche utilizzare t ma non mi cambia nulla ok perché t di fatto viene sostituito tramite type rager dalla classe più generica che c'è che è object attenzione non posso andare a fare un l punto aggiungi 4 perché ovviamente io ho t ma lì dentro non so cosa è t ok quindi questa operazione qua non è permessa perché ho una lista generica di t dove t dentro il metodo è indefinito ok mettendo il tipo t non serve un cast a object no sostanzialmente qui non ho bisogno di allora estrai testa restituisce un tipo t quindi lo posso memorizzare tranquillamente in una variabile tipo t qualunque cosa sia nel println posso tranquillamente passare o perché tanto andrò a chiamare il metodo toString che permette di che è ovviamente definito nella classe object e quindi è presente in qualunque classe sostanzialmente con questa dichiarazione noi abbiamo dichiarato che stampa tutti non è un metodo qualunque ma un metodo generico per cui potrà essere declinato esattamente come per le classi generiche e per le interfacce generiche in tante varianti quindi è come se ci fosse un metodo stampa tutti per i vari tipi ovviamente io stampa tutti l'ho chiamato così e ovviamente il compilatore mi ha fatto una type inference nel senso che qui io ho passato l che è una lista generica di integer e quindi ha capito che t è uguale a integer ok quindi t è un integer ok posso evitare di fare la la type inference se vado a mettere integer qua stampa tutti l ehm 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 mettere il nome della classe che quindi è es lista generica punto ehm la sintassi prevede che ci sia il nome della classe punto il il tipo ok quindi in questo caso non c'è una type inference ehm il 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 type parameter è esplicito le due cose sono equivalenti ehm posso fare un metodo eh static t int certo sì allora la sintassi è esattamente quella di un metodo dove prima del tipo di ritorno ho il parametro quindi qui dentro invece di voi potrei mettere int o qualunque altro tipo di ritorno e la parte aggiunta in più è questa un altro modo di andare a dichiarare un metodo come stampa tutti è quello di invece di mettere il parametro di tipo qua andare qui a dichiarare un punto interrogativo ovviamente qui non ho t ma ho object questo si legge unknown sconosciuto e quelle due dichiarazioni sono sostanzialmente analoge stampa tutti e stampa tutti unknown sono assolutamente equivalenti di fatto vengono trattati allo stesso modo quindi invece di andare a dichiarare un metodo generico posso andare a dichiarare che è un parametro con quello che si chiama un unknown non immaginiamo ora di voler fare un metodo che invece di andare a stampare tutti mi vada a sommare tutti ora per andare a fare la somma devo poter avere un metodo che mi permette di estrarre il valore e poi di sommarlo un modo di fare quello è andare a fare uno static di anzi ve lo scrivo prima con non generico e poi lo rendiamo generico se facciamo un void anzi void double visto che vogliamo andare a fare la somma somma qui ho una lista generica di number cos'è number? number è la classe di base di tutti i valori numerici posso fare un double somma uguale zero while l punto conta è maggiore di zero somma più uguale a l punto estrae testa punto double value e return insomma la classe number ha una serie di metodi che sono comuni a tutte le classi wrapper numeriche tra cui double value int value long value eccetera in questo modo se ho un number sono sicuro che posso estrarre il double value e sommarlo ora è ovvio che di nuovo non posso fare un somma l perché l è di tipo lista di integer mentre invece il parametro di somma richiede una lista di number non posso neanche andare a fare come prima mettendo semplicemente t perché in questo caso la type erasure che cosa fa? prende t mi sostituisce object che è quello più generico e dentro object non ho un metodo che si chiama double value non posso fare somma di l perché allora come era prima esattamente per cui non potevo fare stampa tutti perché per il problema dell'invarianza ok somma di l si aspetta una somma di number una lista di number io gli passo una lista di integer ma l'invarianza mi dice che se integer extends number non implica che lista integer extens lista di number quindi sono due tipi assolutamente incompatibili in parte se io metto qua t posso chiamarlo perché essendo diventando somma un metodo generico di volta in volta sostituisce a t il tipo giusto il problema è che t qui dentro la type erasure mi implica che t diventa object essendo object double value non è compatibile perché double value è definito in number ma non in object quindi che cosa devo fare io dovrei avere il modo di dire che qui in realtà la base non è object ma bensì number quindi quello che posso fare è andare a dire che voglio avere una lista generica di t dove t extends number cioè vado a dire questo è un metodo generico somma dove nel parametro t posso mettere qualunque classe purché estenda number quindi di fatto sto dicendo che non è un tipo parametro un parametro di tipo qualunque è un parametro di tipo che funziona soltanto se quel parametro estende number quindi giusta l'osservazione che leggo adesso in chat la differenza tra i due casi stampa e somma è che il metodo to string c'è su object esattamente mentre invece double value c'è soltanto il number esattamente quindi questo che si chiama bounded type ovvero tipo limitato la type erasure non è più che t mi viene trasformato in object ma t mi viene trasformato in number ok è il limite superiore quindi sappiamo che t è quantomeno number o una classe derivata da number e quindi qui dentro invece di andare a dire assumiamo che t sia un object il caso più semplice è valido sempre comunque possiamo assumere che t sia un number e quindi sappiamo che qualunque classe sia di fatto ha un metodo che si chiama double value e quindi posso fare la somma ok il valore attenzione questo è il parametro di tipo il valore restituito dal metodo è comunque double il bounded type lo posso utilizzare ovviamente anche per le classi certamente sintassi alternative a questa il t che verrà usato sarà allora attenzione a questo punto qui questo somma diventa un scusate ne ho due quindi mi si è confuso ok a questo punto vedete che io ho un lista generica di integer quindi qui nel main il tipo sostituito a t è integer all'interno del metodo somma invece opererò come facendo una specie di di upcast a number e quindi tratterò tutto come fossero dei number altra notazione invece di farlo così posso utilizzare l'unknown quindi posso dire unknown extends number ok quindi i due metodi sono praticamente identici salvo che in un caso dichiaro la variabile di tipo con un boundary nell'altro caso metto un unknown e il boundary lo metto sull'unknown terza possibilità per complicarci ancora di più la vita ho un t e il boundary lo metto sulla classe specifica no scusatemi così non funziona devo mettere di là e quindi le due varianti sono quelle che vedete qua o col tipo e il relativo boundary oppure con l'unknown e il relativo limite cosa cambia tra il punto interrogativo e t sostanzialmente nulla queste due notazioni sono alternative quella con l'unknown è semplicemente un po' più compatta rispetto all'altra ok quindi questa qua di fatto si riconduce a quella precedente però a volte è più comodo scrivere così invece che andare a mettere un tipo generico metto semplicemente qualunque classe che estende l'unbra ok benissimo a questo punto domanda quindi se metto soltanto t verrà trattato tutto come se fosse un object esattamente l'idea è che l'idea è che la type erasure mi sostituisce a t per generare il codice effettivo la classe più generica possibile se non ci sono dei dei boundary dei confini come ad esempio number automaticamente diventa object se invece ci sono dei boundary come number significa che tutto verrà trattato come quel boundary a questo punto visto che non riusciamo a sfruttare la la covarianza e dobbiamo per forza ricordarci che o mettiamo i tipi generici o mettiamo delle wildcard gli unknown per permettere le chiamate cioè per scrivere il metodo una volta sola e permettere di passare dei parametri che possono essere di tipo diverso attenzione che a volte questo non è sufficiente ok torno un attimo sull'ordinamento generico qua chiamo questa funzione il mio sort che è sostanzialmente analoga a quella del sort che avevamo messo che è dichiarato dentro la classe arrays ok allora qui sono tranquillo perché sugli array funziona la covarianza quindi t non devo mettere particolari limiti l'unica cosa è che io ho il vincolo che il comparatore debba essere un comparatore del tipo t ok a questo punto immaginiamo di avere un integer numeri uguale i nostri numeri scusatemi ok io ho indicato di mettere array vado a definire un comparatore non lo faccio di integer ma lo faccio di number uguale prendo due numeri a e b e restituisco sostanzialmente a punto int value meno b punto int value a questo punto volendo ordinare i miei numeri anzi ve lo faccio al contrario così almeno abbiamo un ordinamento altrimenti sono già ordinati vorrei chiamare il mio sort passando come parametro i miei numeri e il comparatore in questo caso funziona allora qui sfrutta la covarianza e quindi funziona allora volevo farvi vedere no vi faccio vedere direttamente sulle slide perché ricreare l'esempio allora il metodo sort è dichiarato non come abbiamo visto prima ma è dichiarato in questo modo sort t di a e poi compareto non di t ma unknown super t cosa vuol dire vuol dire che accettiamo un comparatore non necessariamente del tipo t ma eventualmente di una qualunque classe unknown qualunque classe unknown che sia una super classe di t in modo che ad esempio ho un array di interi e accetto un comparatore non necessariamente di interi ma anche di una qualunque super classe di integer che potrebbe essere ad esempio number questo è un altro tipo di boundary mentre l'altro è un boundary superiore quindi extense il super funziona al contrario ed è sostanzialmente un vincolo inferiore ok va bene un comparatore di t o di una qualunque delle sue super classi ok in effetti se voi andate a vedere la dichiarazione del metodo sort eccola qua persona sort persona array comparator punto interrogativo super persona quindi va bene un comparatore non soltanto di persona ma eventualmente anche di una sua super classe e quindi abbiamo sostanzialmente due tipi di vincoli di boundary per i tipi generici per i parametri di tipo generici un boundary superiore che è extense e un boundary inferiore che è super mentre l'extense è ovvio nell'esempio che abbiamo visto prima abbastanza facile questo qua è un caso un po' più particolare che permette di andare a gestire dei casi molto particolari ok allora abbiamo parlato di interfacce funzionali buona parte di tutte le interfacce funzionali definite in java sono tutte interfacce domanda quindi non considera come noi abbiamo definito il metodo mio sort allora no il metodo mio sort dovrebbe essere definito come punto interrogativo super t a questo punto il metodo è esattamente uguale all'altro cioè ha lo stesso tipo di parametri del metodo sort di arrays allora non da errore perché con gli array funziona sostanzialmente la covarianza se io volessi fare un metodo di ordinamento allora ve lo faccio in questo modo così vediamo la differenza immaginiamo di voler fare un mio sort che non ordina un array ma bensì ordina un lista generica di t tolgo il super t ok allora non ho la lista generica qua ma torno un attimo negli esempi di prima torno dove era ecco gli esempi della lista generica abbiamo la nostra somma di l immaginiamo di voler andare a fare un ordinamento di una lista generica t ok avendo un comparatore che è questo qua un comparatore di number se io faccio mio sort passo la lista l e passo cmp il mio sort non funziona perché mi dice attenzione io ho una lista generica una lista di integer e un comparatore di number i due non sono compatibili ok effettivamente è vero perché il comparatore non è di integer è un comparatore di number però noi sappiamo che se riusciamo a ordinare una qualunque classe superiore allora siamo anche in grado di ordinare una classe più specifica quindi l'idea è non voglio un comparatore esattamente di t ma va bene un comparatore di una qualunque unknown super classe di t quindi se ho un comparatore che è in grado di ordinare degli integer bene se ho un comparatore che è in grado di ordinare number che è la classe di base di integer va benissimo a questo punto mettendo punto interrogativo super t quindi di unknown super t la mia chiamata funziona perché il comparatore non è più un comparatore di non è più necessario che sia un comparatore di integer ma va bene anche un comparatore di una qualunque classe di base vedi è un comparatore di unknown super integer dove quell'unknown nel caso specifico è number quindi nel caso precedente degli array il comparatore si adatta effettivamente cioè il tipo t si adatta in base al comparatore quindi faccio sostanzialmente un upcast degli elementi dell'array cioè anzi dell'array e faccio l'ordinamento in maniera del tutto analoga se io volessi fare un mio sort di una lista basato su non un comparatore ma su comparable qui dovrei andare a fare un sort di non semplicemente t ma t extens comparable di unknown super t o utilizzando gli unknown invece della del no gli unknown non li posso utilizzare perché altrimenti non non riesco a specificarlo quindi sostanzialmente questo è il è il modo di andare a garantire che gli elementi di tipo t della lista generica implementino l'interfaccia comparable non necessariamente di t ma anche di una qualunque classe superiore ok quindi con le liste è più evidente che c'è questo grosso problema che posso risolvere andando a mettere un vincolo diciamo inferiore e non un vincolo superiore ok quindi in questo modo abbiamo visto come funzionano i nostri tipi generici sia su comparable che su compareto l'idea qui è esattamente quella io scrivo t extends comparable perché in questo modo garantisco che t implementi comparable sostanzialmente in questo modo se io cerco di ordinare una lista di elementi che non hanno un ordinamento naturale il compilatore mi segnerà subito l'errore se io non mettessi tutta questa parte qui potrei chiamare il metodo sort su una lista e poi scoprire in fase di runtime che in realtà gli elementi della lista non implementano comparable e quindi sostanzialmente ho un errore in fase di runtime mettendo quel vincolo ho la garanzia che il compilatore mi faccia il controllo e quindi l'eventuale problema sia intercettato prima l'eventuale quindi allora torno un attimo indietro io ho messo t extens comparable e super t perché in questo modo ho la garanzia che quando chiamo il mio sort senza nessun nessun comparatore semplicemente con la lista garantisco che questa chiamata venga permessa dal compilatore soltanto se gli elementi della mia lista di fatto implementano comparable se non mettessi quello potrei passare al al metodo mio sort una lista di elementi che non implementano comparable il compilatore non mi direbbe nulla salvo ritrovarmi poi in fase di esecuzione con un errore e per cui se io ho una classe non comparable e dichiaro una lista generica lnc uguale scusate di non comparable uguale new lista generica ok se io faccio mio sort passando lista di non comparable il compilatore mi dice non è compatibile perché il new sort si aspetta una lista di elementi che siano comparabili se se invece tolgo questo controllo il mio sort funziona perché è una lista qualunque il punto è che l'implementazione del metodo sostanzialmente è la stessa dobbiamo fare un ordinamento quindi fare un cast a comparable se non metto il controllo il compilatore mi dice che va bene e ho poi un errore in fase di runtime se invece metto il controllo il compilatore già subito mi dice che non va bene quindi sono fermo lì devo risolvere il problema fargli implementare comparable e quindi non mi ritrovo a scoprire il problema a runtime che sostanzialmente alla fin fine è il motivo principale per utilizzare i tipi generici permettono di fare di anticipare tanti controlli in fase di compilazione invece di ritrovarmi dei problemi di cast a runtime questo è il motivo principale per utilizzare dei tipi generici e quindi anche in questo caso mettere dei vincoli di questo tipo cosa serve a non super t e esattamente a cosa serviva di qua comparator garantire che io abbia un comparable non necessariamente implementato dalla classe specifica ma potrebbe essere un comparable della classe di base immaginate di nuovo le interfacce delle classi number e integer se io ho number che implementa comparable di number lì integer se non avessi quella non super t non andrebbe bene perché integer implementa comparable di number non comparable di integer e quindi la non super t mi dice va bene un comparable non necessariamente di quella classe ma anche di una delle classi precedenti ok quindi la ragione è la stessa del comparatore qua ok perché se ho un comparatore di number lo posso utilizzare e quindi mi funziona anche in maniera analoga un comparable una classe che implementa comparable di una classe di base vi faccio un riepilogo dei comparatori quindi abbiamo visto come è definito l'interfaccia comparetor che ha il metodo compare ovviamente comparetor non ha solo quel metodo perché ha una serie di metodi statici e metodi default come abbiamo già visto la volta scorsa ma di metodo vero e proprio distanza ha solo quello quindi se io ho una situazione di questo tipo dove ho un new comparetor che confronta due studenti sulla base della della loro matricola quindi ho due studenti vado a confrontare l'id di uno con l'id dell'altro quindi faccio un ordinamento in base alla matricola degli studenti quello che ottengo è sostanzialmente che il mio main il client in questo caso crea un nuovo oggetto che implementa l'interfaccia comparetor ok chiamo il sort array e comparetor la classe arrays in particolare il metodo sort chiama l'operatore quadre per accedere ai due elementi da confrontare sull'array e poi li confronta chiama il metodo compare sul comparatore posso anche utilizzare l'abbiamo visto la volta scorsa il comparing che ha la necessità di avere un estrattore l'estrattore ha due parametri di tipo il parametro di partenza e il parametro del che è il valore dell'attributo per cui posso utilizzare sort comparing student get id ok il metodo comparing è scritto così ma l'abbiamo già visto la volta scorsa quindi non mi soffermo più di tanto in questo caso cosa succede che crea un oggetto che è l'estrattore ok ho bisogno di un oggetto è fatto con una lambda ma comunque un oggetto chiamo il comparatore passandogli l'estrattore perché il comparatore dovrà utilizzare l'estrattore per estrarre i due parametri e quindi creo l'oggetto comparatore dopodiché l'ordinamento cosa vuol dire ripetere un certo numero di volte preleva un elemento preleva l'altro i due da da confrontare chiama il metodo compare sul comparatore il comparatore che cosa fa chiamerà il metodo apply sull'estrattore passandogli il primo elemento e poi chiamerà il metodo apply sull'estrattore passandogli il secondo elemento il risultato saranno due oggetti di tipo integer su cui andrò a chiamare il compare to sono oggetti di tipo integer e non int perché ho una funzione e quindi il parametro di tipo è per forza un oggetto una classe e non un tipo primitivo se io volessi utilizzare direttamente degli int posso utilizzare quest'altro metodo che non abbiamo visto la volta scorsa che si chiama compare int ovvero un metodo che si aspetta che l'estrattore vada a recuperare un intero e quindi fa il confronto tra interi quindi in questo caso i confronti sono leggermente più semplificati perché ho il keygetter che viene creato dopodiché lo passo al comparatore che crea in particolare il metodo comparing che crea un nuovo comparatore che utilizza il keygetter e poi ogni volta che devo fare un confronto il metodo sort andrà a prelevare i due elementi dall'array chiamerà il metodo compare che andrà a chiamare il metodo apply sui due elementi e poi andrà a confrontare i due elementi quindi vedete che c'è una certa diversità in termini di complessità dove in questo caso ho molti oggetti coinvolti e una serie di chiamate in questo caso ogni volta che io devo fare un confronto all'interno del mio algoritmo di ordinamento devo fare sostanzialmente due chiamate per ottenere gli elementi una compare sono tre quattro cinque sei chiamate e due new perché tramite boxing devo andare a prendere l'intero e encapsularlo dentro un integer quello che invece faccio nel caso di un comparatore molto semplice è semplicemente chiamare compare e basta e andare a cedere i due interi come potete facilmente comprendere questo mi porta a delle tempistiche un po' diverse a b freccia a.id meno b.id impiega circa 100 ok nanosecondi millisecondi ok dipende da dimensioni dell'array che vogliamo andare a ordinare se io faccio a.gataid meno b.gataid ovviamente non accedo direttamente gli attributi ma devo chiamare il metodo di get e questo ovviamente mi porta via un po' di prestazioni vuol dire che ho un 20% in più se ho un comparing int dove vado a chiamare il metodo get id ho un 35% in più di tempo se utilizzo il getter ma non con il confronto tra interi ma con il confronto tra integer quindi utilizzando il compare to tra gli integer ecco che vado quasi a raddoppiare il tempo necessario con in più l'uso di molta memoria per il fatto che ogni volta che devo fare un confronto viene creato un oggetto wrapper che poi verrà confrontato e quindi tutto sommato queste quattro alternative per confrontare degli studenti sulla base dell'OID mi danno lo stesso risultato ok è chiaro che in termini di tempo e di memoria utilizzata le cose cambiano abbastanza perché mentre i primi tre non creano la memoria aggiuntiva ovvero usano accedono semplicemente agli interi che stanno dentro gli oggetti studenti da confrontare l'ultimo essendo più generale crea un oggetto wrapper ogni volta che accede all'attributo e ovviamente questo porta via oltre che del tempo anche della memoria quindi in generale attenzione a come scrivete i vostri comparatori perché possono essere più o meno efficienti il risultato alla fine è lo stesso ok in termini di funzionalità è lo stesso però un minimo di attenzione vi permette di non avere delle prestazioni troppo degradate questo perché ogni volta che io ho delle lambda degli oggetti che vengono creati vuol dire che devo andare a fare delle chiamate in più quindi volendo avere una prospettiva di evoluzione del linguaggio Java volendo fare un confronto con Java 2 fino a Java 4 di due oggetti studente dovevo andare a costruirmi un comparatore fatto così quindi due oggetti il cast e vado a prendere i valori con Java 5 sono stati introdotti tipi generici e quindi non devo più usare il compare di object ma un compare di student quindi mi risparmio il cast e l'operazione è decisamente più semplice con le lambda posso utilizzare sostanzialmente la stessa sintassi dei generics ma molto più compatta perché mi evito tutta la parte ripetitiva e quindi uso la lambda specifico semplicemente i due parametri i cui tipi sono inferiti automaticamente al compilatore e scrivo semplicemente quello che qui avevo scritto dopo il return oppure posso utilizzare questo factory method che crea un oggetto comparatore passandogli un oggetto estrattore gli ultimi due sono abbastanza simili in termini di leggibilità in termini di compattezza è ovvio che il secondo in termini di prestazioni lo è un po' meno perché abbiamo tanti oggetti intermedi che vengono creati e che devono poi chiamarsi a vicenda direi che con questo completiamo la veloce panoramica con esempi sui tipi generici vi pubblico entro domani un un nuovo una nuova lezione asincrona sui tipi generici così potete rivedere tutto le ultime lezioni allora ci saranno gli esercizi nuovi ovviamente per per la lezione di mercoledì di domani riceverete i test del laboratorio scorso e ci sarà una nuova parte del 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 laboratorio di questa settimana esercizi addizionali non saprei dove dove indirizzarvi cioè potete cercare in rete ma non non vi so dare delle delle indicazioni specifiche che 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 che